Ciao a tutti bentornati sul mio canale, oggi un video particolare perché devo aprire un pacchetto che mi è arrivato da Mauri e Moni Mauri e Moni sono una coppia di ragazzi che ho conosciuto tramite youtube, hanno un canale, anzi alla fine del video vi lascerò il pallino con l'invito ad andare a vedere il loro canale allora li ringrazio davvero tanto perché sono stati gentilissimi e mi hanno inviato questo regalino che mi sarà sicuramente utilissimo e con i quali creerò delle cose magnifiche anche loro hanno un negozio su Etsy, se riesco nell'info box vi metto anche il link al loro negozio le cose che vedrete, che mi hanno mandato le troverete, le trovate sul loro negozio Etsy mentre alcune di cui dopo vi parlerò non le trovate ancora perché stanno ancora aspettando delle cose infatti diciamo che io ho l'onore di avere l'anteprima di questi meravigliosi oggetti ma bando alle ciance andiamo subito sul tavolo così spacchettiamo e vi faccio vedere e vi spiego tutto eccoci qui, allora questo è il pacchetto che mi è arrivato, era confezionato in questa carta da pacchi o carta craft che io ovviamente ho già tolto e ho già guardato perché non potevo resistere a parte che quando mi è arrivato ero in casa ammalata per cui non potevo neanche girare il video perché non stavo bene per cui io l'ho aperto perché avevo assolutamente la curiosità di vederla allora innanzitutto, vabbè guardate la scatola, una bella scatolina e sopra ci hanno applicato degli adesivi tra l'altro questo è il mio nome e se potete notare ve lo faccio vedere da vicino sembra uno sticker pretagliato però io so che loro non hanno il plotter quindi non possono pretagliare gli sticker ma li tagliano a mano loro penso con il cutter di precisione cioè guardate non so se notate ma la perfezione nel tagliare i contorni cioè veramente sembra fatto appunto da una macchina ci mettono davvero tanto tempo tanto cuore però guardate che cose bellissime che fanno sulla loro pagina Etsy trovate anche degli stickers che hanno creato loro e mi hanno spiegato appunto che li ritagliano a mano uno ad uno quindi complimenti Maurizio e Monica perché veramente fate delle cose stupende e poi vabbè mi hanno messo questo adesivo con un foil argentato con scritto for you e questi due cuoricini aprendo la confezione qui hanno messo un altro adesivo con la scritta Mauri e Moni Shop molto molto curata devo dire la confezione pluriball per proteggere il tutto e dentro iniziamo c'è questa bustina cioè guardate quanto è carina con la calamita a forma di cuore se non erro di queste bustine hanno fatto anche un tutorial su come crearle poi dentro c'è un bigliettino per me che comunque una cosa personale me la leggo la leggo io in privato che ho già letto comunque guardate che bella questa carta tutta glitterosa veramente la bustina è troppo forte bellissima la terrò con cura allora in questo pacchetto come potete già vedere ci sono le barre ad anelli per le agende allora io le tiro fuori una per volta allora abbiamo questa in formato A5 color argento quindi si apre come tutte le barre quindi schiacciando e richiudendo quindi mi hanno inviato quindi due barre formato A5 color argento per fissarle le barre mi hanno inviato anche i rivetti ovviamente si possono si possono fissare o con i fermacampioni o con i rivetti i rivetti vabbè sono a parte che sono molto più eleganti comunque hanno la doppia testa quindi hanno questa specie di bottoncino e a mio avviso sono anche più più saldi mentre magari il fermacampione si possono muovere si possono staccare questi sono più saldi mica cosa ecco che sto aspettando che mi arrivi un torchio per appunto applicare i rivetti poi sempre ben impacchettato tutto mi hanno inviato altre barre cioè me ne hanno mandate veramente tantissime che gli ho detto ragazzi siete pazzi allora sempre color argento e questo dovrebbe essere formato A6 se non sbaglio dovrebbe essere formato A6 che è quello che diciamo che sto realizzando anch'io su commissione mi hanno commissionato delle agende formato A6 quindi sempre con i 6 anelli ecco una cosa Mauri e Moni sono io penso che siano gli unici in Italia a vendere le barre ad anelli io li avevo contattati tempo fa prima di comprarle su Aliexpress appunto perché mi servivano delle barre l'unica cosa è che le avevano solo argento e io le volevo oro quindi le avevo ordinate da Aliexpress Aliexpress c'ha un brutto difetto ci vogliono veramente due mesi prima che arrivino le cose fate conto che le barre che avevo visto sul loro shop di Etsy e quelle su Aliexpress avevano un prezzo più o meno simile quindi se volete creare delle agende oppure chi sta seguendo il mio tutorial per creare delle agende vada sulla pagina sul negozio Etsy di Mauri e Moni e trovate tutte le barre disponibili al momento hanno solo quelle argento perché appunto quelle di altri colori che adesso vi faccio vedere gli arriveranno più avanti io le ho in anteprima però prima finiamo di vedere queste argentate infine argentate appunto me ne hanno inviate altre due guardate quanto sono carine queste qua penso siano formato pocket guardate che sono carine piccoline queste sei barre ad anelli quindi qua ragazzi preparatevi perché appena finito di fare le commissioni di Natale mi lancerò nella creazione di agende agendine agendine mini 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 da borsetta che appunto poi metterò sicuramente sul mio negozietto Etsy dopo queste stupende meravigliose barre ad anelli argento mi hanno inviato in anteprima le barre color oro quindi ragazze se volete creare un'agenda con le barre ad anelli oro tra a breve sul loro negozio Etsy le troverete quindi ci sono anche in Italia senza dover aspettare i mesi di Aliexpress anche queste hanno i rivetti color oro però ovviamente se non volete comprare il torchio per i rivetti potete richiedere anziché i rivetti i fermacampioni quindi poi vi manderanno i fermacampioni del colore la cosa bella di questa barra oro è un formato A6 ma guardate gli anelli gli anelli sono grandissimi mentre gli altri sono dovrebbero essere di 2 cm che sono come quelli che avevo trovato io su Aliexpress quindi grandi 2 cm vi do la conferma esatto il diametro interno è di 2 cm questi veramente ragazzi hanno un diametro di 2,5 2,6 quindi ragazzi qua vi stanno davvero tantissimi fogli sono quasi sono grandi come ma penso che siano grandi come quelli della mia Kiki K e con appunto di barre oro io sono fortunata li ho in anteprima che bello me ne hanno mandate due quindi non posso far altro che ringraziare l'infinito Mauri e Moni voi direte gentilissimi sì ma non è finita qua quindi 6 barre argentate 2 oro e poi la meraviglia delle meraviglie ragazzi non potete capire qua penso che vi scioglierete tutti e non vedrete l'ora di trovarle sul loro shop rose gold rose gold ragazzi cioè sono magnifiche rivetti rose gold stanno appunto non le hanno ancora messe sul loro negozio perché stanno aspettando che gli arrivino anche i fermacampioni oro e rose gold perché ovviamente chi non ha la rivettatrice il torchio per gli rivetti può affrancarli con i fermacampioni cioè immaginatevi quando i fermacampioni rose gold cioè guardate anche questa con anelli grandissimi quindi da 2 e mezzo e ovviamente me ne hanno mandate 2 anche di queste sono formato a 6 mi pare che di queste il formato a 5 non ci sia comunque sia ragazze cioè la me la cioè che meraviglia sono bellissime non so se in telecamere si vedono così bene ma una meraviglia quindi cosa cosa fare niente ringrazio tantissimo Mauri e Moni perché li ho conosciuti appunto tramite youtube abbiamo fatto un video in collaborazione e sono due persone veramente squisite gentilissime ci sentiamo spesso per vari consigli infatti infatti loro mi hanno consigliato poi per il torchio per mettere i rivetti c'è veramente due ragazzi di cuore non so come ringraziarli perché veramente 10 barre ad anelli sono veramente tantissime cioè li ringrazio davvero di cuore sono proprio emozionata quando ho visto il pacco quando ho visto la meraviglia di queste rose gold di queste gold cioè non lo so sono veramente stupende quindi ragazze ripeto preparatevi perché finito il natale finito le commissioni che sto facendo mi dedicherò appunto a realizzare delle agende per utilizzare al meglio queste meraviglie quindi vi invito ad iscrivervi al canale di Mauri e Moni di seguirli anche sui social di seguirli anche su etsy perché appunto se vorrete realizzare un'agenda come quella che sto realizzando io seguendo i miei tutorial e volete utilizzare una barra ad anelli a 6 anelli magari oro o rose gold tenetevi aggiornati appunto sul loro shop perché a breve arriveranno in vendita e ripeto sono penso che siano gli unici in Italia a vendere le barre ad anelli così almeno io non ho mai trovato nessuno dove ho trovato appunto solo loro niente vi ringrazio ancora per avermi seguito ringrazio ancora Mauri e Moni per avermi inviato queste meraviglie vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao